Una nuova raffica di furti ha preso di mira il quartiere pesarese di Villa Fastigia. A distanza di un anno un problema che torna, diversi colpi sia in abitazioni che in attività commerciali tra questo mese di gennaio e il precedente di dicembre. Sì, il mio intervento è proprio per risollecitare quello che poi non è stato fatto perché dopo i furti dell'anno scorso, siamo proprio a distanza quasi di un anno, una serie di furti ha colpito le vie finali, la settimana scorsa via Borsi dove ci troviamo e ieri sera fresca fresca della notizia in via Parlotti. Quindi il quartiere si sente nuovamente insicuro, ieri sera una serie di messaggi, di telefonate, di incontri video in video con alcune persone che mi sollecitano di riprendere quello che poi l'anno scorso è stato fatto, quindi quello che il comune deve fare, quindi un incontro pubblico qui nel quartiere, ma soprattutto sollecito magari anche il questore di parlare di un incontro con noi del consiglio di quartiere, io parlo da consigliere di Ascoltiamo Pesero e anche e soprattutto in veste di direttivo di Fratelli d'Italia di Pesero, è una delle questioni che diciamo come partito a cui teniamo molto, sappiamo che ci sono gravi mancanze di personale, quindi non possiamo pretendere la polizia qui che pattuglia le nostre vie quotidianamente, però quello che era stato proposto, che era stato detto delle telecamere, di alcuni accorgimenti e di altre cose, quello sì, è sollecito il comune a farlo, sollecito nuovamente dopo quello che è stato detto l'anno scorso ma non è stato fatto. Grazie a tutti.